Ciao lettori e lettrici di MammaStyle e benvenuti in un nuovo video! sappiamo benissimo quanto sia pratico usare il bimbi per preparare qualsiasi cosa ci avrà la possibilità di dimezzare i tempi di preparazione e non si sporcherà altro al di fuori dei suoi componenti proprio per questo oggi vogliamo mostrarvi una ricetta golosa da preparare con le castagne vediamo insieme come preparare dei muffin alle castagne utilizzando il bimbi nel boccale del nostro bimbi inseriamo la farina l'uovo lo zucchero le castagne sbriciolate il burro fuso il latte la crema mu un pizzico di sale il cucchiaino di lievito per dolci mescola tutti gli ingredienti per 20 secondi a velocità 3 ora non dovrete fare altro che mettere l'impasto nei pirottini e cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti come sempre se ti va lascia un like iscriviti al nostro canale e per tantissime altre novità sulla cucina visita il nostro sito www.mammasina.com eし da 0 0 0 0 0 0 Grazie a tutti.